9 persone denunciate, 13.000 articoli di pelletteria, abiti, filati e accessori per la casa contraffatti sequestrati, insieme ad attrezzature per la loro fabbricazione, un'auto con all'interno un campionario di tessuti per un valore complessivo di circa un milione di euro. È questo il bilancio di una vasta operazione contro i falsi di lusso condotta dalla Guardia di Finanza di Viareggio. I controlli sono partiti proprio dalla Versilia, mercato di sbocco di una filiera di produzione e distribuzione che ha portato le fiamme gialle in Liguria, Veneto, Marche e in Umbria, individuando i luoghi di fabbricazione e stoccaggio dei falsi. Gli accertamenti sono stati suddivisi in tre fasi. Prima, in una boutique di Forte dei Marmi, sono stati trovati e sequestrati articoli di lusso per la casa con marchi industriali contraffatti. Si tratta di statue in resina vendute a 400 euro l'una, cuscini, tovaglie, tessuti, vari, riportanti griff da Chanel a Chiara Ferragni, da Prada a Cartier. I militari sono poi risaliti alla filiera illecita di produzione e di commercio. Sono state effettuate perquisizioni in sei abitazioni e in altrettanti opifici delle province di Genova, Vicenza, Macerate e Perugia. In una seconda fase, la Guardia di Finanza ha sequestrato 1.500 capi di abbigliamento sportivo con il marchio Emporio Armani, messi in vendita su un banco del mercato di Forte dei Marmi. In un terzo intervento, in uno stabilimento balneare in passeggiata a Via Reggio, è stata trovata una cabina utilizzata come deposito dei falsi, di note case dell'alta moda, sequestrati oggetti di pelletteria, di alto pregio, contraffatti, contanto di cartellini e QR code anticontraffazione.